vale il rammarico nel gol subito al finale quanto brucia tanto tanto perché secondo me oggi abbiamo espresso un buon calcio soprattutto nel secondo tempo penso che una buona parte della partita l'abbiamo messi sotto la curva ci ha spinto tanto però pareggiare così all'ultimo c'è proprio grande rammarico perché sono tre punti buttati oggi conquistare tre punti era diverso da prenderne uno cosa è mancato per portare a casa i tre punti non penso che sia solo una questione di attenzione in occasione del gol no sicuramente come dici te non è solo attenzione dovevamo gestire meglio questa situazione e so che dire anche perché brescia e cittadella come dice i tuoi colleghi non siamo entrati in campo diciamo perché siamo stati una squadra spenta senza cattiveria e abbiamo subito le due squadre oggi ho visto secondo me una buona salernitana un grande passo avanti rispetto alle scorse partite ma non dobbiamo accontentarci perché oggi la vittoria la potevamo conquistare pareggiare così veramente c'è grande rammarico perché era 30 secondi dalla fine e adesso saremo qui con un altro umore sicuramente a parlare